Voi mi avete fatto delle bellissime domande sulla vita americana Quindi scopriamo insieme un sacco di cose ragazzi, iniziamo A che ora cenate? Beh, negli Stati Uniti la cena tipica inizia alle 6 Lo so che per voi è prestissimo Al liceo i fichi sono davvero i giocatori di baseball e le cheerleaders Beh, io giocavo a baseball, quindi dimmi tu se è vero Non sto scherzando, però le cheerleaders sì, erano di solito belle, diciamo, sì Si paga solo con la carta o esistono ancora i contanti? Bellissima domanda I contanti sì, esistono, ma vengono usati poco E quindi sì, anche se stai pagando un pacco di gomme, due dollari Paghi comunque con la carta, quindi direi di sì È vero che avete sempre la porta di casa aperta, come nei film Um, non lo so, non penso Cioè, il cancello non c'è e per questo si chiude la porta Non so perché nei film sembra che non si chiude mai Ma sì, si chiude a chiave anche, quindi non lo so Però nella mia famiglia sì, si chiudeva con la chiave Da cosa vi dovete difendere di preciso? Che avete sei pistole per singolo cittadino Innanzitutto pensavo fossero tipo otto a testa per ogni cittadino Sto scherzando, però la teoria è che ti devi difendere da una persona che può attaccarti Lo so che non è molto logico L'America ha questo problema, siamo sinceri Comunque non ho una pistola e non conosco nessuno che ce l'abbia Quindi penso dal punto di vista italiano Abbiamo tantissime armi ed è vero Ma forse meno persone di quanto pensate hanno pistole È vero che gli americani sono un po' superficiali Beh, siamo tutti un po' superficiali, no? Però se dovessi scegliere una parola Direi stolcinati Penso che gli americani sono molto più stolcinati degli italiani, penso C'è la cultura dell'aperitivo Purtroppo non c'è E per questo neanche la parola aperitivo esiste Non c'è una parola del genere in inglese Prendere una birra la sera con gli amici si fa Ma proprio aperitivo non esiste Vorrei sapere per quale motivo le case americane non hanno i recenti cancelli come in Italia Non avete paura che possa entrare qualche ladro Come abbiamo visto abbiamo pistole per questo Sto scherzando Ma non lo so, chiudiamo la porta a chiave Quindi così è uguale ad un cancello, no? Non si può entrare Ma più di questo penso che la mentalità che ci sono ladri è molto diminuita in America In Italia è tipo una mentalità attiva Tipo ci sono ladri In America non abbiamo questo Quindi i cancelli non ci sono Ma la porta chiusa a chiave c'è Anche con un sistema dell'allarme Se qualcuno entra suona l'allarme, capito? Quindi altri metodi di protezione ci sono È vero che nelle scuole si inizia cantando l'inno nazionale O si fa solo nel film Ai miei tempi a scuola c'era E tipo i primi sette anni di scuola era obbligatorio Poi con la cultura che cambiava diventava facoltativo E una volta che è diventato facoltativo io non l'ho fatto più Solo perché non volevo alzarmi Volevo riposarmi nella sedia così E non mi frega Del pegno di fedeltà Pledge of allegiance si chiama in inglese Non so se ancora si fa Probabilmente no Ma sembra un po' da nazi Penso, nazisti Credo Quindi un po' è strano, sì Non so se si fa ancora Allora, questa domanda mi è stata fatta molte volte Interessante sarebbe la differenza tra relazioni amorose americane e italiane So che molti ragazzi americani fanno figli giovani Si sposano presto e divorziano più volte E un'altra persona mi ha chiesto Gli americani si sposano presto? Se sì, poracci Secondo me si sposano prima? Senza dubbio Hanno figli prima? Senza dubbio Non so se il divorzio è più comune Io sono in quel gruppo Ma se si sposano prima? Decisamente sì Ho tipo otto amici E quest'anno sei si sposano Quindi quest'anno è l'anno del matrimonio Ma ho soltanto 29 anni Quindi chissà Dato che nella tua vita hai vissuto sia in Italia che in USA Dove si vive meglio secondo te? Questa domanda è un po' troppo generale Per rispondere veramente Ma secondo me dipende da persona a persona Anche in Italia Regione a regione Stati Uniti Quartiere a quartiere Quindi tutto dipende Ma se dovessi dire io Penso che gli Stati Uniti siano molto più comodi Anche perché sono americano Ed è più facile fare quello che devi fare nella vita Ma detto questo L'Italia ha tanti pro Tipo il mondo di cibo Il mondo di ragazze E anche non lo so Famiglia Quindi ci sono pro e contro E dipende alla fine Come mai negli USA non si può girare con le bottiglie di alcolici la sera? Almeno che non siano nei sacchetti È forse una misura ecologica per evitare bottiglie rotte in strada? Non penso sia per questo Penso sia per il fatto che la cultura americana tende ad ubriacarsi Molto di più rispetto alla cultura italiana Quindi avere alcolici all'aperto in pubblico è illegale Non puoi neanche bere una birra al parco E mi piace questo dell'Italia che lo puoi fare Ma negli Stati Uniti non lo so L'alcol pensate che possiamo iniziare a bere a 21 anni Quindi non è così sciallo come in Italia Allora la prossima domanda è sarei molto interessato a come vivono gli americani Le stragi random è il fatto che ognuno ha una pistola Terrificante vivere in ansia in un paese così And yeah, chiaramente mi aspettavo delle domande del genere Non direi che in ogni momento sto pensando Vivo in America Una sparatoria potrebbe accadere in qualsiasi momento Non è che sto pensando a questo Ogni tanto mi passa per la mente Magari in una situazione un po' scomoda Potrei pensare a questo E anche in Italia e in Giappone a volte pensavo tipo E' bello sapere che non morirei in una sparatoria Ma fuori questo contesto non penso sia una cosa che viviamo tutti i giorni In più viviamo le stragi random come le vivete voi insomma Siamo sempre scioccati, delusi, arrabbiati Quindi quando c'è una sparatoria come il resto del mondo 99,999% degli americani sono scioccati, arrabbiati e delusi Sono curioso di sapere qualcosa in più delle vostre università Allora se dovessi riassumere tutto Costano un botto? Sono buone? Penso siano tipo università molto buone Ma costano tantissimo Sono anche divertenti Come probabilmente avete visto in qualche film Ci sono le feste, gli sport Ma principalmente sì Puoi imparare, puoi studiare Quindi sono un'esperienza di vita molto più reale Che università in Italia penso che non è un periodo della vita In America college è tipo quella fase della tua vita Studi, impari, ti diverti E continuando con domande sulla scuola A scuola ci sono i compiti da fare a casa Sì, homework esiste, certo Quindi per esempio a matematica Se impari qualcosa Poi a casa devi fare cinque problemi di quella cosa Cosa normale, insomma Sì, abbiamo i compiti, homework Allora, poi Mi spieghi bene il percorso scolastico Fino dall'asilo Negli Stati Uniti abbiamo Preschool, kindergarten E poi gli anni normali iniziano Uno a cinque elementare Sei a otto scuola media Nove a dodici liceo High school E poi l'università dura quattro anni Se vuoi andare avanti puoi ancora Ma ci si laurea dopo il dodicesimo anno Quando sei un senior al liceo Perché gli americani hanno cucine enormi Open space con il salotto Beh, penso che l'America sia un grandissimo paese Abbiamo più spazio Quindi le case possono avere più spazio E poi quello stile open space Va di moda tantissimo in questo periodo adesso Quindi a me piace Penso che le case americane siano belle, grandi Quindi mi piace Quali lingue straniere vengono insegnate a scuola? Al mio liceo c'era spagnolo, cinese, francese e tedesco Niente italiano, mi dispiace E sì, in teoria si è obbligato a studiare Una lingua per tutti i quattro anni del liceo Ma non è che qualcuno impara veramente una lingua Nessuno impara una lingua E appunto, poi quando sono andato all'università Dopo quattro anni di spagnolo Iniziavo con l'italiano che mi aiutava con lo spagnolo Adesso lo spagnolo parlo abbastanza bene Ma le lingue straniere non sono una cosa seria negli Stati Uniti Come probabilmente già sapete In media quanto costa l'assicurazione sanitaria Io sto scoprendo questo adesso perché per la prima volta nella mia vita Sono un adulto negli Stati Uniti E sto pagando penso 170 dollari al mese per assicurazione Quindi sì, il costo della vita qui è molto aumentato rispetto a quando ero in Italia Yeah, io con un'assicurazione neanche buonissima Cioè abbastanza basilare Sto pagando 170 dollari al mese Divertentissimo questo E l'ultima domanda è Il fatto che gli USA sono arrivati per primi sulla Luna nel 1969 Quanto vi dà orgoglio per il progresso spaziale e tecnologico? Abbastanza, abbastanza Mi ricordo in Italia Se c'era questo argomento dicevo tipo Gli americani sono andati sulla Luna per prima E poi c'è chi dicevo tipo Ma no, ma era tutto finto Non è successo veramente But yeah Un po' orgoglio anche per tecnologia Conoscete gli americani Sono sempre super patriotici dell'America Quindi il fatto che siamo arrivati per primi sulla Luna Siamo orgogliosi Certo, come no? E ragazzi Ecco le nostre 20 domande del Q&A Spero vi siano piaciute E come sempre se avete altre domande Scrivetemele Chissà forse un giorno facciamo un round two Di questo video Grazie per aver guardato E ci vediamo presto ragazzi Peace